Ben ritrovati ragazzi al vostro Opentitus, questa volta vediamo come si comportano i nostri due Xiaomi vediamo un confronto sostanzialmente tra un Redmi 5 Plus e un 4X abbiamo due hardware differenti ma la stessa interfaccia grafica, stiamo parlando del MIUI i telefoni sono già accesi, possiamo fare anche uno speed test anzi faremo sicuramente uno speed test adesso bene, facciamo riavvia e adesso vediamo quali dei due si comporta egregiamente ecco vedete che entrambi, prima ho fatto un tentativo ma purtroppo è andato male vedete questo qui è il particolare che è stato sbloccato molto probabilmente questa era una versione cinese però poi dopo è stato sbloccato ed è installato una global invece questo aveva già una global nativa qui il Redmi 5 Plus stiamo parlando di un Snapdragon 625 quindi una categoria superiore rispetto al 425 del 4X entrambi octa-core per quanto riguarda le frequenze questo raggiunge una frequenza di 1,4 GHz mentre questo qui 2 GHz infatti vedete come il primo si è avviato di più rispetto all'altro bene, mettiamo le nostre password dopodiché possiamo procedere a vedere proprio come si comportano entrambi bene, abbiamo detto caratteristiche hardware differenti sì, proprio perché oltre al processore che cambia andiamo a vedere un attimo un attimo, andiamo indietro andiamo a CPU-Z così che riusciamo a vedere anche le caratteristiche ecco vedete che qui la frequenza massima è 1,4 come ho detto mentre qui la frequenza massima è 2 GHz sempre octa-core perché vedete gli 8 core a disposizione montano entrambi uno Snapdragon però uno è 4,35 chiedo scusa, prima ho detto 4,25 4,35 l'altro 6,26 quindi due categorie completamente diversi l'uno superiore all'altro infatti avete visto anche l'avvio come è stato molto più veloce rispetto all'altro anche per quanto riguarda la risoluzione questo stiamo parlando di un semplice HD questo invece è un Full HD quindi sviluppa 403 dpi mentre qui soltanto 293 dpi quindi per quanto riguarda il peso invece qui abbiamo 150 grammi ovviamente più piccolino però nonostante questo sia bello grosso si tiene bene in mano perché ha una diagonale maggiore ha un rapporto dello schermo a 16 noni e quindi questo rapporto widescreen permette di sfruttare e utilizzare meglio il display un attimo che rifocalizziamo per quanto riguarda lo spazio all'interno questa è la versione da 64 giga c'è anche una versione da 32 giga questa invece è la versione da 32 giga 3 gigabyte di RAM e qui invece 4 gigabyte di RAM anche in questo caso abbiamo una versione di 3 gigabyte 32 giga ma abbiamo voluto prendere quella maggiore per quanto riguarda invece attenzione che qui si è aperta una pubblicità tutto tranquillo abbiamo la stessa versione Android una Nougat 7.1.2 e per quanto riguarda la versione Android kernel utilizzata vedete qui utilizza la MIUI 9.6.2 mentre qui la 9.5.5 cerchiamo di focalizzare meglio vediamo un po' ok così troviamo il giusto compromesso bene la batteria in questo caso abbiamo una 4100 mAh qui una 4000 mAh quindi vada bene che la durata di questo è abbastanza buona ma anche questo non dispiace nonostante ha uno schermo full HD la durata è abbastanza discreta per quanto riguarda i sensori abbiamo tutte le tipologie di sensori infatti qui lo possiamo vedere questi sensori termici chiedo scusa questi invece i veri sensori ok che altro adesso vediamo direttamente come si comportano entrambi i dispositivi aprendo ad esempio diverse applicazioni allora bene che stava già a zero il dispositivo e poi dopo vi faccio vedere anche un'altra guida su come disabilitare i tasti soft touch qui sono presenti al di fuori dello schermo mentre qui erano presenti all'interno dello schermo io li ho eliminati utilizzando le gesture alla modi iPhone X oramai questa è la moda ma devo dire che mi trovo abbastanza bene quindi proviamo partiamo subito da applicazioni social questo non è collegato a internet mentre questo è collegato a internet quindi non ci interessa adesso la connessione vediamo semplicemente come vanno le applicazioni via e vedete ovviamente che le applicazioni vanno molto più veloce per quanto riguarda il Redmi 5 Plus mentre qui le applicazioni partono leggermente in ritardo però ovviamente è un gap davvero minimo però c'è e si vede proviamo a far partire un gioco il gioco in questo caso dovrebbe sentirsi di più la differenza no non ho toccato quindi lo facciamo un'altra cosa visto che non ho toccato facciamo ripartire via e non è andato nemmeno questa volta annaccia e questo è il bello della livellette ragazzi è molto probabilmente è una sensibilità diversa questo qui anche perché è un vetrino molto più doppio quindi se non tocco bene non mi va a selezionare nemmeno bene ok riproviamoci speriamo che questa volta la volta è buona purtroppo non sono riuscito ugualmente a farlo partire ma comunque va da se che è molto più veloce quest'altro bene possiamo uscire ok poi proviamo facebook la principale applicazione questa volta ce l'ho fatta e ovviamente vedete che qui non c'è connessione l'apertura è un po' simile apriamo quest'altra applicazione ecco vedete come carica prima il 6 e 26 andiamo su spotify ovviamente qui mi chiede di fare l'accesso però qui invece già si era loggato per questo motivo qui è andato più veloce semplicemente perché non era loggato proviamo ad aprire ad esempio messenger questa cosa abbiamo due versioni diverse no proviamo ad aprire impostazioni ecco che potete vedere anche qui le principali differenze che ci sono la versione di android abbiamo detto entrambi la novet qui abbiamo una miui global 9.5 mentre qui una global 9.6 ma molto probabilmente anzi entrambi verranno aggiornati alla miui 10 e ci saranno davvero tante innovazioni vedete io come vado con le gesture swipe e poi vi spiegherò anche in un altro video tutorial come poter abilitare questa cosa per quanto riguarda il redmi 5 plus nel redmi 4x credo non sia a disposizione questa funzione vediamo un attimo no non c'è non c'è questa funzione perché se io vado qui impostazioni mi da display a schermo intero qui invece non c'è display a schermo intero è una funzione che hanno incrementato soltanto sul redmi 5 plus beh che cosa dire sono due telefoni che trovate a una differenza di prezzo non enorme perché questo qui nuovo lo trovate a 130 euro mentre quest'altro nuovo stiamo parlando sempre stesso listino stesso fornitore ora ognuno può essere libero di scegliere in qualsiasi fornitore diverso ma ha lo stesso fornitore questo qui invece sta a 165 barra 170 euro quindi c'è una differenza di 30 40 euro l'una dall'altro e credetemi va molto bene ma entrambi i dispositivi non dispiacciono vanno bene comunque io credisco molto il redmi 5 plus con il suo schermo davvero davvero abbastanza elegante richiama molto i telefoni di ultima generazione bene ragazzi spero di esservi stato utile con questo confronto tra questi due telefoni Xiaomi e ci rivediamo in un altro video da vostro OpenTitus ciao ciao